Catiuscia e Fabio Lusini continuano a fare beneficenza e aiutare i giovani e le associazioni del territorio in nome dell'amato figlio Gabriele, il giovane che perse la vita in un drammatico incidente a Bibiena lo scorso giugno, fulgorato dai cavi della corrente elettrica che aveva inavvertitamente agganciato con l'amo della sua canna in carbonio estendibile. Morì nel giorno del suo ventunesimo compleanno. Adesso a beneficiare del nuovo gesto di solidarietà gli ospiti, bambine, bambini, ragazzi e ragazze della casa di Emma, la casa famiglia di Farneta. Un gesto di grandissima forza da parte di questa famiglia meravigliosa, commenta il sindaco di Bibiena, Filippo Vagnoli, che ci sta mostrando una nuova strada, quella dell'amore per il prossimo che guarisce ed unisce. I fondi donati dalla famiglia di Gabriele, prosegue la coordinatrice Chiara Fabri, ci hanno permesso di acquistare questo tavolo, non è solo un oggetto, per noi è molto di più, è un luogo. I ragazzi devono potersi ritrovare insieme, potersi riconoscere e parlare. I genitori di Gabriele hanno voluto anche acquistare un defibrillatore che sarà collocato in via dell'orto all'interno della ciclopista dell'Archiano, non lontano dal luogo della tragedia.